Oh Oh eccolo che entra l'attuale campione degli stati uniti della new japan pro wrestling che affronterà l'attuale contendente numero uno per il titolo del regno unito si che smara ecco che entra keny omega the cleaner come dice la sua maglietta il suo debutto è stato molto buono pensando che anche se non ha vinto la six per challenge è riuscito a eliminare due superstar che sono proprio judas steel il suo attuale rivale è sì che smara schienandoli ambe due quindi vedremo keny omega riuscirà a battere anche stavolta sì che smara lo scopriremo soltanto vivendo ed eccolo che arriva le luci diventano blu sì che smara un debutto molto buono vogliamo ricordare quello che ha avuto contro pit dan proprio l'abbattuto in veramente poco tempo voleva guadagnarsi una shot al titolo e se l'è guadagnata perfettamente anche se me ci ha avuto una valutazione relativamente bassa in me i booker hanno deciso di dare una chance a chi ha sì che il prossimo stage stiamo parlando di stage 4 per il titolo eccolo che entra riuscirà a battere omega lo scopriremo tra poco ok un altro grande match smara contro kenny che match aveva inizio attenzione smara suplex neckbreaker incomincio pesante possiamo dire smara pigna lo stomaco super chi è che qua wow 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 super chi adesso prende a cepponi lo prende a sleppe lo prende a sleppe pesanti grande aranakarana no ma che ne esce insulta mirandolo con la pistola la pistola del cleaner un'altra aranakarana da parte di smara cerca di sedire ma c'è kenny che gli blocca la strada oh tentava una buy honeycabo probabilmente non riesce a connetterla perfettamente ma comunque si riesce incita a se stesso pubblico e adesso basta wow flag jack flag jack smara ma probabilmente tentava un'altra nostra b trigger b trigger incomincio già a spammare le cinocchiate possiamo dire snip suplex uuuh gamba contro la corda attenzione lo aspetta sling blade incita a se stesso il cleaner il cleaner il cleaner del baller club attenzione sale sulla terza corda smara cosa vorrà fare cosa vorrà fare mamma mia possiamo dire tipo che adesso mi viene in mente la roe rider dalla terza corda un po' pocciata ma comunque fa tutto bene tutto a posto attenzione un bacio della corda è un insegure da shanguisa anzi adesso si riposa smara attenzione il seguito da parte di il chenni lo invita a rialzarsi lo invita a rialzarsi lo invita a rialzarsi lo invita a rialzarsi il trick e che tenta tentava il superkick la kingdom attenzione cat ranch power bomb lo invita a rialzarsi cosa ha in mente cosa ha in mente lo gira ce l'ha c'è un superx devastante c'è un superx devastante tenta l'uffinamento potrebbe essere la fine uno due no nemmeno contro di due nemmeno contro di due attenzione si rialza tenta una vitriga niente crossline superkick attenzione ne ricordiamo che questa ne spaccò la faccia a uno dei dark brothers questa speciale che esegue anche moto da yamashita tenta la kingdom di nuovo dragon play tutto sui sai dai oh mio dio si suicida la patica niente ah guardate le battute sui sai dai si suicida basta battute del cazio tanto sui sai dai niente adesso lo boccia a lui 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 che fa adesso oh no 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 oh che il show oh mio dio oh mio dio lo riporta e lo attende molto probabilmente per finirlo con la one-wing il giro la vita apocalipsic shot apocalipsic shot e la fine solo conto di uno come ha fatto come ha fatto double knife face breaker una double knife face breaker così forte come ha fatto a liberarsi il senario sweep che vuoi fare nooo così nooo roll up ma esce subito Kenny rotola via rotola via smara lo aspetta al barco al barco e esegue un muscle devastante smara ha in pugno questo match ha in pugno omega in generale un altro insicuri evitato suplex oh mio dio piedi contro la barricata oh mio dio scusate no totale first drop che pugno che pugno adesso vuoi riportarlo al centro del ring prima lo spot e contro la barricata niente entra un super kick niente entra nel ring pigna un'altra pigna un'altra ancora discus close line discus close line devastante spezza il collo di Kenny omega solo conto di uno solo conto di uno non so che fare adesso lo richiama potrebbe tentare e ora super smart discusi super man punch il super kick niente niente super kick che misterio adesso che fa lo gira un'altra v3 che è attento allo schienamento uno due no no si libera si libera lo richiama ne vuole tentare un'altra ne vuole tentare un'altra petriger ancora petriger ancora petriger ancora se lo carica sulle spalle è pronto ce l'ha c'è un suplex gli spezza il collo gli spezza il collo e allora credo che sia pronto bella one wing angel bella one wing angel lo lancio fuori sunset flip roll up solo quanto di uno attenzione attenzione ma che cosa un super kick la super no la kingdom butta fuori keny omega dal ring ma che cosa incredibile se fosse stata una voglia rumble keny omega avrebbe perso 100% il tono e ring pigna ancora attenzione moonsault che moonsault che moonsault oh oh cosa tentava mai non si sa petriger ancora sarà la quinta o la sesta volta che la vediamo in azione questa sera quinta o sesta volta che la vediamo in azione questa sera ce l'ha lo gira lo gira è pronto per la one wing angel boom è finita tenta lo schienamento uno due e no whatta whatta freaking hell whatta freaking hell lo prendi no tenta lo schienamento oh kingdom kingdom attenzione attenzione apocaliptic shot apocaliptic shot è finita perché new mega uno due no 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 anche qui anche qui petrigerand petrigerand e quindi dove l'epto l'epto si domanda ma con la distrazione con la distrazione di dan ce l'ha potrebbe essere la fine wow wing angel ed è uno ed è due ed è tre è due è due è due a è due a è due